E' destinata a peggiorare dunque la situazione riguardante le discariche abusive che si sono generate in diverse parti del territorio di Sciacca, soprattutto a ridosso degli ultimi cassonetti situati nelle aree tuttora non coperte dal servizio del porta a porta. Foggia, San Marco, Piana Scunchipani sono ormai autentico ricettacolo di spazzatura che rischia di invadere perfino la stessa carreggiata. Situazione pericolosa e in merito non ci sono certo scenari favorevoli. Resiste la raccolta porta a porta del rifiuto umido che viene trattato presso il centro di compostaggio di Marsala in attesa che quello di Santa Maria possa essere finalmente ripristinato e resiste anche la raccolta del differenziato multimateriale, vetro, lattine, plastica, carta e cartone. Una situazione quella che si sta venendo a determinare in diverse zone della città compresa l'area di San Giorgio Lumia, solo parzialmente riconducibile la diffusa inciviltà di chi non esita di sfarsi della propria spazzatura in qualsiasi momento, in qualsiasi maniera. Ormai infatti è tutta la regione siciliana ad essere in fase di emergenza dopo la scadenza dell'ultima proroga alla gestione dei rifiuti. La chiusura delle discariche impedisce il conferimento di rifiuti indifferenziabili. Tutto questo potrebbe mettere in discussione anche il ritiro di questo tipo di rifiuto nel servizio del porta a porta, anche perché gli autocompattatori della ditta appaltatrice del Piano Aro al momento non si possono svuotare. Intanto la situazione è complicata. Segnalazioni su un servizio che necessita di essere migliorato ci giungono oggi anche dall'area cimiteriale. Anche qui i contenitori sono pieni fino all'inverosimile. Nel viale principale sono stati svuotati la scorsa settimana in tutti gli altri settori. Chissà da quanto tempo non vengono svuotati nella zona centrale del cimitero. Sono stati collocati alcuni di quei contenitori azzurri rimasti per anni a cuocere al sole con latte di calce. Ci hanno scritto sopra solo carta ma sono stati riempiti anche di fiori secchi. Una condizione da rivedere nel segno di un luogo che come più di altri merita sicuramente decoro e senso del rispetto.